io devo darvi una brutta notizia ragazzi perché purtroppo avendo perso questa sfida voi dovrete affrontare una sfida no 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 fammi capire non so quando sarà però non era così dietro ci hanno detto perdete io farei entrare un attimo innanzitutto l'oggetto se qualcuno io farei portare la penitenza all'altra squadra posso fare una piccola postilla? me la concedete? si poi facciamo entrare l'altra squadra l'idea è mia questa che pirla che fortuna oddio so un po' scarichi che è successo? perché c'è poco da applaudire state per star male 7 a 2 veramente veramente male ma come stai dicendoci? fate ride questa penitenza è una cosa che io non volevo assolutamente fare e quindi la fai pure tu non so chi l'ha portata dovina ragazzi avete qua ve lo faccio vedere al pubblico una cassetta porno sembra è vero è death nut la nocciolina più piccante del mondo alla moglie lo ricordo un attimo io vi ricordate quel video con Checobomba dovevamo io Joker Checobomba abbiamo mangiato una nocciolina e siamo morti? primo livello ma che c***o è addio ma primo livello che? è moccionato acqua 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 dammi la caura dammi l'acqua che prego no no a me ne vado vi lascio qua la penitenza godetevela ragazzi bocca al lupo buon appetito e godetevele grazie mille per aver perso vorrei sottolineare che questa cosa qua che è una roba che mi brivile a pensarci c'ha 5 livelli io in un video che ho fatto con Ciccio ho mangiato il primo livello ho stato male per due giorni sul cesso loro mangeranno il livello 5 chi? voi ma che fai te tu madre chi? no mia madre non fa niente mi fa fatto che mia madre è l'acqua ma era cristiana ma non è che gli ho detto qualcosa di brutto ho detto tua madre no livello 5 sei un spiace lì potevo offendere la mamma scusate lì la potevo offendere no non l'hai fatto perché mi sono limitato ma tu che c***o di livello hai preso il 5 questo mio livello 5 Ciccio la devi provare la devi provare ma che c***o dici? dai scemo pagliaccio dai no chiamiamolo per nome e cognome scemo pagliaccio facciamo la cosa facciamo livello 5 ma facciamo tutti no regà non avete idea non lo sai non fare il duro non fare il duro sei matto no tu sei proprio un c***o no regà adesso tu rimani qua non vieni qua no devi far vedere no è tutto scemo no non hai capito lui pensa quello è che smette di respirare però il livello 1 posso provarlo io ma no prova il livello 1 allora io amo il piccante sì 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 pur io cioè quello è un c***o ma quello è scemo allora è livello 1 no l'1 è easy è niente vero tu mangia piccante? no ok lui mangia piccante no livello 1 è easy giuro guardami aspettiamo 30 secondi ti sei emozionato che c***o vuoi dire raga l'avete portato di voi che c***o vuoi dire a me simone che c***o ah ferme sta no me sta una fia per culo raga perché vabbè però qua dai non c'è tanta copertura come sei? dai livello 1 vado a parlare stai sudando ma sì due scusa rimettila qua ma dai su ma dai su sei ospite dai no ah sì ce l'hai in bocca però fatti vedere no eh sì eh però ci sta eh ci sta c'è una vera bombetta commenta nell'hotpot non faceva così ridere vabbè no no questa roba questa è a livello 1 lui sta morendo lui no lui è morto è andata è andata cioè dell'acqua ragazzi è un pezzo di merda no è colpa mia è un pezzo di merda dell'acqua ma io non t'ho detto di mangiarla ma stava schiumando eh io gli ho detto parti dall'1 io ho provato l'1 sto morendo sta piangendo simone allora voi pensate che sia uno scherzo a prescindere aspetta io voglio fare la gag per dire vabbè faccio questa cagata io non sto scherzando lo giuro veramente su ogni cosa così più caro no non sto scherzando cioè vorrei che veramente qualcuno empatizzasse con me perché la mangio io la mangio io no 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 guarda che crepi zio 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 no no serio no non toccate per tu cose strane raga oddio sei uno zombie guarda che fa mi dai questo pacchetto no non è una bella comunque siamo due coglioni devono mangiare loro stiamo mangiando noi io l'ho mangiata eh però quella base no dai iron man no vi giuro che è uno scam stiamo in scamale vai 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 è la 5 la persona 5 vai vai adesso cioè se vuoi fare un minuto di live dove sono così vai 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 adesso arriva mandala giù respira non sta respirando è quello il problema no no è l'aperitivo no io sto bene cioè tu sei veramente un tragico ma tu stai piangendo le lacrime agli occhi ma io le lacrime agli occhi perché posso dire è contento non mi è mai capitato di avere un pubblico così bello no adesso no gag sei veramente un tragicone sto bene vi giuro che sto bene ma io amo il piccante ve lo giuro sono calabrese ma non sei calabrese che vuol dire sei calabrese tu vai più sai di merda come è scusami una domanda loro non l'hanno mangiata come no ma sì hanno mangiato quella 1 livello 5 livello 7 eccolo abbiamo pensato la 5 o la 2 insieme surreal powering che è successo sei proprio commosso però non ti tocca l'ho ha perso un po' la voglia in arte surri grazie grazie fa piacere un applauso per loro 3 un applauso vabbè 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 scusate se esisto non volevo non volevo ho detto ciao Simone ciao Mirko ciao surreal powering ha detto surri siamo in quanto noi mates no 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 chiesto che ha fatto me l'ha offerta un'altra senti lascio qui ne vuoi approfittare ancora scusate io sto chiedendo dell'acqua da 10 minuti comunque secondo me se vuoi anche offrire no 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 ragazzi fidate di liberatoria com'è la liberatoria mi sembra la liberatoria qua per i danni no 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 sai che mi immagino mia mamma che fa dai che poi sta male deve andare in ospedale come facciamo no sto bene mamma è tutto a posto è l'anima che è morta cos'è il telefono è bello ma basta adesso siamo passati all'orologio di Mirko lo vedete mutante c'ho paperino pure qua io ho scritto uomo mi diventi saluto saluto ragazzi un applauso grazie 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 ciccio grazie 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 Joker è una piacere l'uscita è di là l'uscita è di là grazie